Il principe Ferri potrebbe sfondare in televisione seguendo le orme di sua moglie Meghan Markle. Si dice la duchessa avrebbe suggerito una mossa che potrebbe aiutare la sua potenziale carriera a Hollywood. Meghan Markle sta spingendo affinché il principe Ferri prenda lezioni di recitazione, è stato affermato, portando a speculazioni su un potenziale debutto televisivo per il duca. Secondo Lifestyle Magazine, un insider ha detto della coppia. L'affinità di Meghan per i riflettori, lo ha contagiato perché Ferri ama stare sulla scena di Hollywood. Se ha intenzione di seguire la strada della TV e del cinema, preferirebbe condurre uno spettacolo, ha detto l'insider. Gli piacerebbe, forse, intervistare imprenditori come Bill Gates e Richard Branson, sui loro progetti di passione. Ferri è stato visto gomito a gomito con personaggi famosi di Hollywood, tra cui George Clooney ed Ellen DeGeneres, ed è andato a sciare con Corey Gamble. M.R. Gamble è partner di Kris Jenner, i cui figli includono Kim, Kourtney e Khloe Kardashian e le loro sorelle dalla parte di Jenner, Kylie e Kendall. Circolano voci secondo cui i Sussex sarebbero apparsi come ospiti nel loro show di successo, The Kardashians, in onda su e intrattenimento negli Stati Uniti. Non è stato promesso nulla. Ma si è ipotizzato che Ferri e Corey scendere insieme sulle piste, potrebbe significare che sono un passo avanti verso la realizzazione di questo obiettivo. Un insider ha anche affermato che Meghan Markle, era arrivata al punto di suggerire al principe Ferri di prendere lezioni di recitazione, per assistere al lancio del Duca a Hollywood. Ferri di prendere i Sussex e le loro sature turiiran grazie a loro Grazie a tutti.